Oggi è un sabato di novembre, vi dirò anche la data, la data, 26 novembre, sì, 2022. Aldo è in contemplazione a vedere questo bel prato, con la brina, con la rugiada, ma che belle, queste foglie colorate e verdi, mi danno un senso di relax a vedere quelle piccole goccioline che sono al di sopra di queste foglie, appoggino con una dolcezza tale l'armonia della vita in quanto sussiste la natura, proprio il senso di contemplazione di questo bel prato. Ebbene, non vi dico che prato sono, vi dico la regione, un prato lombardo, ma sentire queste campane da lontano, l'ora più bella della giornata e poi vedere questo sentiero che io pongo verso il mio sguardo all'infinito, un sentiero che oggi mi porta a una bella gita autunnale dove guardo in alto anche queste belle foglie gialle nell'immenso cielo azzurro. Sotto questo cielo potrebbe nascere dei desideri di belle passeggiate oggi, ma innanzitutto vado alla stazione a prendere sei biglietti promotore, perché sono a metà prezzo fino al 28 novembre. Oggi desidero essere un viandante, un girovago, chiamatemi come volete amici youtuber. Io sono un nobade, mi piace viaggiare, esiste nella fantasia anche in un senso di nuvola, di viaggiare sopra un cielo dove l'immensità di questo cielo mi porta a essere l'immenso di me stesso. Aldo, Aldo.